Devi sbrigare una pratica con la tua auto e non vuoi perdere tempo. Studio Carlea, da oltre 30 anni al servizio dell'automobilista. Ricominciano le scuole. Nella mattinata di oggi sono stati molti plessi scolastici che hanno riaperto i battenti nella provincia di Napoli e a Giuliano. Dopo un'estate di sole e di mare si fa fatica a tornare tra i banchi di scuola, ma sono tanti gli studenti che aspettavano questo giorno per rincontrare compagni di classe e insegnanti. Anche quest'anno, come gli altri, andrà alla grande sicuramente. Sta molto bene, i ragazzi sono entusiasti, stanno preparando l'accoglienza per le classi prime. Loro devono legarsi in maniera positiva, relazionare con i propri compagni, con i duecenti e soprattutto stimolarli a quella che è la curiosità e all'amore per la conoscenza. Diciamo che noi siamo arrivati, arriviamo ogni anno sempre più carichi e speriamo che questa carica e questa voglia di andare avanti e di dare sempre il meglio sia trasmessa anche agli alunni. Anche agli alunni va trasmesso questa gioia di venire a scuola, non sentito soltanto come un dovere. Avete fiducia nella scuola, signora? E' stata facilmente palpabile aspettando con i genitori fuori scuola l'emozione delle mamme che hanno atteso fuori dai portoni i figli che hanno affrontato il primo giorno di scuola elementare. E' stato bello, una bella esperienza, l'aspettavamo. Vabbè perché è la prima esperienza, il bambino stava emozionato. Lei come si sente? Eh, con la speranza che vada bene. Che sia studioso? Vabbè, la prima cosa. E' brutto perché il mio figlio stava tranquillo a casa, non sono una mamma che si lamenta, mi è dispiaciuto un po' ricominciare, però si fa. Altre mamme invece aspettavano con ansia e trepidazione questo primo giorno di scuola. Signora, oggi si ritorna a scuola, lei che cosa ha da dire? Che bello, lei!